Buonasera a tutti, sono Sara Jane. Anche io mi unisco al grande coro e vi chiedo di stare a casa per fare del bene e per far fare del bene a tutti gli operatori sanitari che in questo momento sono in prima linea e stanno dando il meglio per tutti noi, infermieri, medici, insomma tutta la classe. Lo dobbiamo fare anche per i malati, perché se noi siamo forti e usciamo, possiamo comunque fare del male a chi invece è un po' più fragile. Quindi questo è il primo veramente desiderio che rivolgo a tutti voi. Poi se volete ancora di più contribuire al bene, si può andare su Instagram a vedere tutti i ritratti in vendita di cui il ricavato poi andrà a favore per le raccolte fondi del sito Nurse Times e dell'Istituto Spallanzani senza dimenticare la croce rossa italiana. I dettagli comunque sono presenti sotto ogni disegno, pensate ci sono anche io. E un piccolo aiuto può fare la differenza. La pagina Instagram dove fare tutto ciò è lore1981doc. Tutto chiaro? Fate del bene, si sta meglio. Un bacio a tutti, ciao!